BELLA A TUTTI DA PORKMODZ Non me ne ero nemmeno accorto perché Oh mio dio Oh mio dio Pericoloso Pericoloso Pericolosissimo questo Pericoloso Oh bisogna pure saltare Salta Sì un po' salta Ok Perché è pericolosissima Mamma mia Mamma mia Ok Zitti 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 Mamma mia raga ci siamo Ci siamo Non mi chiedete niente Non mi chiedete niente Buona giornata per il suino Ottima giornata Ottima Ottima Ma che giornatina raga Che giornatina Io non dico assolutamente niente raga Chi c'è sta Chi c'è sta Le belle kill C'è pure sal Tutte a me queste belle kill Raga cortesemente Tutte 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 Tutto il mio cortesemente Sei Vieni qua Vieni qua Tu scappi con sta bicicletta Ok Iniziato bene Iniziato bene raga Così mi piace Se ci diamo una bella svegliata raga Un 47 kill La crudino Dove è andato? Dove è andato raga? Oh io tocciono pure a cadere però Dove stanno Dove stanno? Dove stanno? Ho girato? Aspettate Oh È passato in mezzo raga Ma è passato in mezzo No potere Pure che radino È finito È finito il potere Scute fuori Scute fuori Oh mio dio Oh mio dio Pugilato? E lo farà Antonini 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 vai vai Un bel pugilato Tranquillo Allora uno è caduto giù A quanto pare Il carinano non sta qui Oh finalmente è esploso Chi è? Chi è che me l'hava chiesto il pugilato? Jenny Sui io ho un po' smesso di fare i pugilati Ecco Ultimamente ho avuto un po' di disgrazie raga Leggermente un po' di disgrazie Questo sta sotto mappa raga Ma no No voleva il pugilato sui No Aspetta Aspetta Sandwich Sandwich Black Tiger Vai No aspettate No A me c'è Black Tiger No Stavo facendo il pugilato Vabbè E Comunque come avete visto Stavo facendo un pugilato Raga Non era mia intenzione Ok Solo amgritta rimane Che sta Su alle aremi Teoricamente ma sto chiuse Quindi non ci combinerà nulla raga Non credo Eh si Mi sa che sta lì Eh è difficile salire su Aspettate Si indica su radar raga Quanto tempo ci ho messo a capirla questa cosa raga E una volta non ci capivo nulla Ok Stanno tutte piccole cose su GTA Che si imparano col tempo Sì ma noi dobbiamo andare là sopra raga Si è fermato in una maniera un po' sospetta Magari ha fatto il giro un po' sbommato Non lo so Che dite Questo è un parcheggio da 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 freno sospetto raga A me mi sembra proprio di sì Sembra di sì Ah vabbè Io so come Come fare questa kill La suppulenta No black tiger è andato giù Invece sta su Guardate Ok vedete che si sta a spostare raga Sta su Do sta? Era meglio l'oppressorina? Sì Meglio Ah ma qui la base è talmente vicina Che possiamo fare un parkour Ci avevo pensato E a base vicina è pericolosa negli LTS Ok Do sta il signorino? Con la bicicletta Ah No non mi ha dato la kill raga Non mi ha dato la kill Come sono sceso non lo so Non mi chiede di niente Round vincitore Prossimo round Ok Secondo round Allora Belli carichi A me è bastato il primo round raga Posso stare tranquilla adesso No no Facciamo altre round carine Prendiamo questa verde Sì sì Questa verde Dove ho? Ah no Questo si rompe Aspettate Stanno a far fermi Che è pericoloso stare fermi Sì si rompe No Il limite delle miniature No Il limite delle miniature No Saluto a Macbass Saluto Hollando Saluto Saluto Legame dinamico Allora raga Aspettate Qui Qui è pericolosa La situation Pericolosa Credo di 90 Non è da nessuna parte Raga No no Credo di 90 Alle armi No cortesemente GTA No 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 Non ci voglio Credi No raga Che mariano Alle armi Bravo bravo Non so chi l'ha buttato giù Raga Ma ha fatto un ottimo Lavoretto Ok C'è qualcuno Che sta riandalearmi Perché Ah uno si è messo lì Ma è strano Raga Come si ferma Ah no però Non lo so Sembra Un po' strano Che si fermano così Bisogna indagare Oh mio Dio Sui Oh no 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 Si Si Cascate tutti giù Zitti Crodino Che dovevi fa Crodino Ok Crodino Ho detto Non Nell'altra Maniera Ok Dobbiamo sorvegliare Solo Jenny È rimasto Che sta Non mi dire Che sta lassù Dove sta Jenny Poi perché Me le va a mascherare Su No Nascosta radar Quello che è cascato Ah no abbiamo vinto Bravo Dario Era quello Infatti Abbiamo stravinto Raga Abbiamo messo Due round Partita vincitore Avviamo subito Altri due round Ok Ho riavviato Le LTS Vinceremo pure Questo Secondo match Spero Tanto di sì Ah ma c'erano Le pistolette Poco fa Io non Non lo so Se l'ho presa Non lo so Se l'ho presa Ok Io Meglio questo Shadow Perché non mi Trolla a me Ma chi stava Aganciare Raga aspettate Guardate Ah no Ah raga ma Sì Mia mia Shadow Mia mia Questa bella Biciclettina Possiamo andare Possiamo andare Allora Ho aspettato un po' All'inizio Perché ho troppo Paura degli altri Salta parecchio Questa bici Vabbè Tutto a posto No Ok Aspettate Aspettate Mamma mia Non ci voglio Credere Potevo fare La capriola Raga Cosa avevo Schivato Cosa avevo Schivato Raga Non ho fatto In tempo A fare la capriola Ok Secondo round Poco fa Peccato Se schivavo Pure quella macchina Raga Una cosa epica Che schivare La macchina A piedi così Poi ho sto personaggio Che appena giri Leggermente Gira Non sa quanto Ia 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 Dai raga Ma perché non c'è Miniature Raudino 20 Buonare 1 E' buono Raga La miseria La miseria E' la miseria Che è successo Là dentro Raga No No Crudino 20 Ci sta Eh sì Ma sta lettone Raga E' pericolosissimo Sì Saltatemi Saltatemi Raga Quanto frena Sta macchina Assolutamente Sì 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 Raga Te due Shadow Se non passa qui Ma è vivo No Non credo Due solo No C'è un terzo Raga C'è il terzo Che è Mgrat Pericoloso Lasciamo Fare la voretta Shadow Raga Vabbè che c'è pure Black Tiger Sì Vabbiamo D'amgrat Raga Che io C'ho paura Che Fa qualche Impiccio Strano Se ne va Le armi Ecco No raga Già me lo indica Su e questa cosa Non è positiva Raga E' lui con la macchina Via la kill No Quasi Mi stava così A cascantesta Raga Vabbè Tutto a posto Bello tornare Vecchia viduni Grandissimo Aspettate però Che questo Ma chi è Quella macchinetta sta Sì No Questo se città E' finita Per noi Raga Dobbiamo bloccarlo Un posto di blocco Raga Un posto di blocco Per favore Scendiamolo Buttiamo giù Dalla macchina Vieni Vieni qua Vieni qua Dovete andare Dovete andare Raga Ancora Che pensa Città Scendiamo giù Non sei Ribarta Mai Lui Ok Quello era Lexo Poverino No No Aspettate Macchina In fiamme Quanti siamo Che gli è successo Agli altri due Se eravamo Agli altri tre Ora che Insiste Non sei Città Più E' finita Ma che hanno Tre Guarda che sarei Dall'altra parte Non ci voglio Crede No 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 raga Non toccate Cate 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 No nessuno Che contro Oh no Raga No No Buttatelo giù Per favore Ditemi Sì Tutto a posto Tutto a posto Raga Oh ma è terribile Non si città Non si città Non si città Sui Niente Niente da fare Oh raga Mi schiva In una maniera Incredibile Come faccio A trollarlo Ho detto Qua la fa La solita frenata Lo sapevo Eh Sono chiuse Le armi Di solito Sono chiuse Perché pure Nell'altro L'ETS Era così Sì Emo Io Io Mi butti Già Emo E c'entro Io Raga Gli altri Che stanno facendo Dai non posso Stare due minuti A controllarlo Solo io Che c'ho Pura Che città Raga Datemi una mano Che sarie Le armi È finita Freni Raga Blocchiamolo Per favore Bravo Dario Bravo Dario Che mi sta Dando la mano Raga Sì No 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 Raga Buttatelo giù Per favore Voglio vedere Che casca Sì No no Raga È pericolosissimo Un minuto A fare così Dobbiamo stare Aia Pericolosissimo Bravo Dario Che l'aspetta lì Sì 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 Raga Perfetto Siamo tanti Sono che possiamo fare La sorpresina Di lato Raga Non salire su Non salire su Sal No No Aspettate Ce l'ha fatta No No raga Manca poco Manca poco E poi è finita Raga Come schiva tutti Guardalo Che frenati Ok Non è che lo voglio Rari Lo vorrei Tanta Rari Raga Tanta Rari È impossibile Guardalo Come frena Raga Lì Trollalo Sta a combinare Bar Niente Liscio Mancano 23 secondi 23 secondi 19 18 17 Non ancora Insiste No Avevo previsto Che giravano Per di là Raga Giuro No E questa Che leva A me No Dove sta Dov'è Ah ok Ok Se buttate all'ultimo Stavolta Round Vincitore Prossimo round Ok Terzo round Chi vince questo Vince tutto Vediamo 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 come andrà Un po' complicato Con le biciclette Noi ci abbiamo avuto Una fortuna All'inizio Rara Questa fortuna Vabbè Vabbè Volevo prendere La bicicletta Eh Block Trollano Che tipo Mi stava Trollare Non so Ci dobbiamo Sprecare Che qua Trollano Subito Con le macchine Scavalcano Sì Possiamo Andare Possiamo Andare Possiamo Andare Tranquilli Tranquilli Raga Sì 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 Mamma mia Guarda Chi c'è La sopra Siamo Le armi Però Zitti Ok Ok Che fuggilato Quale fuggilato Mamma mia Raga Mamma mia Tutto perfetto Tutto perfetto Io non dico niente Dico niente Dico niente Non dico assolutamente niente Nulla Nulla Non c'è nulla da dire Raga Niente da dire Fuggilato No sui Non fuggilato Per favore Non fuggilato Sui Spesso Ok Arato Prostima volta Prostima volta Fuggilato Sì Raga Che di solito Un bel fuggilato Lo faccio Quando magari Qualcun altro Basta Fuggilati Per favore Ma questo è un dosta Povero Io c'ho paura Immaginate Poi Miara Con 350.000 Io vado a dare Prima Quello di noventi Raga Ok Certo Porco Non so che mi chiama Dove sta Quello di noventi Dove Dove Raga Dove È lui Sì Grudino 20 Dove devi andare Dove devi andare Grudino 20 Raga Allora io posso farlo Il pugilato Ok Però devo lasciare La mia oppressor A loro due Dovodiché possiamo fare Ma quanta gente c'è Oh Su E su Due sono su Oh Dari Sergio Sono andato Raga Aspettate Qui è la situazione Un po' critica Quindi aspettiamo Un attimo Per questi pugilati Aspettiamo Un secondo Allora Dove voleva Il pugilato Poi c'è Un altro Signorino Porco Non so che Sta giù Oh no E vale pure Il pugilato Non ci voglio Credere Raga Alex Alex Dove sei Alex Alex Sei vivo Sei vivo Rispondimi Rispondimi Prendi 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 Presto Arrivalo A far Il pugilato Prendi Prendi Pugilato Eh Non è che poi Non li devo andare A Non ci voglio Aspettate Andiamo Io l'ho scritto Raga Giustamente Ok Un pugilato Lo posso fare Aspetta Alex Vieni qua Non ti spara A poter No Vieni qua Non ti spara A poter Lì Mi ho fatto Pugilato Cori Cori Vieni 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 Alex Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Pugilato Perfetto No Quasi Sei 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 Sì Sì Perfetto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Tutto Tutto Vincitore Partita Vincitore Se vi è piaciuto L'ETS di Romanaccio Lasciate un bel Mi piace Iscrivetevi al canale Noi ci becchiamo Al prossimo video Bello Noi ci becchiamo Noi ci becchiamo